Shot Show 2018, Stati Uniti. Per la prima volta Beretta presenta il prodotto Victrix per il mercato americano e ne abbiamo approfittato per presentare in anteprima mondiale la nuova linea della serie tattica Minerva, la Minerva 1000, che sta per Military Long Enforcement, in tutte le sue varianti, per cui dalla più piccola, che è la Minerva Pugio, in un solo calibro in .308, con una canna da 16 pollici, studiata prevalentemente per un utilizzo Long Enforcement. Per saltare ha le versioni Magnum, per cui i calibri Magnum, 338 Lapua Magnum, 300 Norma Magnum e 300 Winchester Magnum. È possibile averla con una canna da 22 pollici o 26 pollici, come tutte le altre armi tattiche. Qui sopra vediamo la versione Gladius, in una configurazione da 26 pollici, che è disponibile in .308 Winchester, 6,5 Creedmoor e 260 Remington. Quello che le differenzia rispetto alle armi, che siamo abituati a vedere fino ad oggi, è una configurazione studiata per il mercato militare, per cui un buttstock con regolazioni rapide del checkpiece e del buttstock, monopiede integrato, con regolazione rapida e fine attraverso una ghiera, un nuovo sistema di folding, dove abbiamo la possibilità di ripiegare il buttstock sul lato otturatore, a protezione dalla leva di armamento, finitura dell'azione dell'otturatore opaca, forend predisposto per l'attacco M-Lock. Ci spostiamo di categoria e andiamo nella categoria Extreme Long Range, per cui nei calibri C-TAC, 375 e 408, per spostare il bersaglio da quelle che sono le canoniche distanze, dagli 800-1000 metri, fino ad arrivare a ben oltre 2 km. In questo caso abbiamo una configurazione Minerva, Tormentum in 408, in allestimento 1000, Military Low Enforcement. Poiché negli ultimi anni anche i calibri C-TAC, che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione dalle forze armate in contesti operativi, cominciano a essere presi con particolare attenzione. In questo caso abbiamo un buttstock specificamente studiato per l'utilizzo militare, per cui con regolazioni rapide, azione otturatore opachi, antiriflesso e antiusura, è un acciaio speciale in AISI 630 con trattamento PVD. Abbiamo uno scatto pluriregolabile, per cui è possibile la regolazione del peso di scatto, tipologie di scatto single stage o double stage, è possibile trovare le regolazioni della leva di scatto per adattarsi alle diverse tipologie di impugnature o con l'utilizzo di guanti o meno a mano nuda. In questo caso abbiamo una configurazione con 30 pollici di canna, per sfruttare al massimo le performance della munizione, forend con attacco M-Lock per l'utilizzo di accessori specifici e studiati appositamente per questa tipologia di attacco. Abbiamo un rail in continuo di 45 modi di inclinazione, per essere utilizzato con sistemi di visione termica o notturna. In questo caso, come tutte le armi della serie Minerva Tactical, abbiamo una maniglia di trasporto con attacco per l'utilizzo attraverso fune di appoggio. Nella parte inferiore possiamo trovare un attacco per tre piedi e degli attacchi rapidi per il sistema di trasporto Quick Detacher.